Musica Forse non solo la candidatura mia ma di tutto il centro-sinistra dei candidati sia alla Camera che al Senato Stamattina ci sono le idee del PD per la crescita del Matese e lanciamo l'idea anche del Master Plan per il Matese con un solo brand di qualità Matese E' proprio quello di fare questo grande intreccio tra attività pubblica e privata di questo territorio Devo dire che stiamo avendo una presenza in tutta l'area casertana che non c'è mai stata in tutta la storia di Caserta E questo non solo per una ragione affettiva ma perché credo sinceramente che l'area casertana sia il territorio regionale con le maggiori possibilità di sviluppo Oggi siamo nella parte alta, nel Matese e cercheremo di lavorare su una idea forza Avere un piano di rilancio del Matese con un marchio Matese per l'agricoltura, per il turismo in questa zona può essere davvero una grande carta Abbiamo appena presentato il Master Plan sul litorale Domizio Credo che dovremmo fare un'operazione analoga anche sulla parte alta, sulla parte montuosa Credo che qui ci siano davvero belle possibilità di sviluppo Stiamo seguendo con attenzione i temi dell'agricoltura Abbiamo avuto qualche problema per i pagamenti perché i pagamenti vengono fatti da un'agenzia nazionale, Argea Ma per il resto mi pare che si stia facendo veramente un ottimo lavoro Credo di poter chiedere ai cittadini di Caserta di dare una mano Perché davvero mai come in questo periodo c'è stata attenzione per Caserta